Il petrolio, ce lo devo mettere però, eh? Dove sta lo petrolio? Qui, Piederno, e ora c'è il suo conto di Pialo, me l'ha messo da parte. Comunque è uno spettacolo. Io ce l'ho a casa. Ma che c'è, il petrolio? Eh. No, no, ma ce l'ha questo conto di Pialo che me l'ha messo da parte. Ecco, tutto qua. Invece qui le chiavi che sono? Le? Le chiavi. Queste? Ci sta del Monte Rinaldo, Ortezzano, Altidona, e tutti i vari possedimenti. Pazzo, hai pagato un sacco di imu. Che ce ne frega, che ci fai? Con i soldi che ci fai? Se non ci fai, che ci fai? Con i soldi, se non ci fai, che ci fai? Dov'hai? Che vai facendo? Eh? Che vai facendo? Cosa c'è, che cazzo lo fai come serve? C'è la mano. Io cerco un bottigeli, non gliela faccio un becchialo. Che vuol dire? Per dire se vai a sta settimana bianca, e non gliela faccio un becchialo. Tu hai scia oggi? Io non scia. Allora, niente. Scia pure, però non lo so se ci va a venire, se c'è tempo. Che feria dove? Dal 26 gennaio al 2 febbraio. Amore. Però gli devi dare conferma entro il 12, oggi è il 7, il tempo ci sta, però sai con me. Io stasera io lo faccio. No, no, ma io adesso aspetto le 5, devi venire giù all'ambulatorio. Ah, se no? No, ma io gli potrei mettere il foglio, la carica. No, no, ci devo parlare. Mettiamo su internet, gli mandiamo subito. Su YouTube. L'altro giorno, per dirle tutte, è sabato, siamo stati sulle monache tutta la giornata, che stai con le motoseghe, che stai con le motoseghe, però ti dico, madre, veniamo a fare il pranzo, presto, alle 12 e mezzo, perché vorrei vedere sul rete il presepe di Vallegrascia, perché io ero stato convocato per fare lucrista. No, 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 dico, non vengo, però io ho prestato, io ho regalato due mantelle di pecore. Ah, sì, quelle belle. Allora dico, volevo vedere, oh, ci credi tra io, Pietro e la badessa, non siamo riusciti a accenno il televisore? Ah, ci credi tu a questo? Quando era facile. Ta, ce ne è uno, due, tre, quattro, perché non deve essere cucita? Due telecomandi. Allora già io sto in crisi, se è prima questo, prima questo. Ma che significa? Ma fammi capire. Ma la semplicità, ah, quello era piatto un televisore? No, era un televisore di questi vecchi, no, col decoder. Cazzo. Capito? Oh, in tre, ci siamo riusciti, ah, c'è, era l'uno, dico, guarda, lascio bene, ormai è fatto, io non mi interessa più. Oh, mezzo ora siamo stati, tizzi, anche te lo dite a naso, no? Un bambinello è nato. No, no, io lo proprio sono conto, io non riesco, non riesco a tutte queste procedure, se no, non gliela faccio, accettarlo, non gliela faccio. Se non metto questa luce, questo ce l'avevo tagliato, guarda il che zappo, guarda il che zappo. Questo ce l'avevo tagliato, delle radici a casa di un mio amico, c'è anche la mia firma, vedi, soccolo? Ah, ah, ce l'ho giù. Fedele Pier Giorgio. Vedeli, pure la firma sulla zappa. Il cuore sull'un zappo. L'un zappo, cazzo. Il titolo è un zappo. Che vuoi fare? Che ritiriamo avanti, su? Tanto la vita.